Minto, se non sempre con lucidità di esecuzione, attende pazientemente gli sbilanciamenti altrui, pareggiando con Miller. Minto, se non sempre con lucidità di esecuzione, attende pazientemente gli sbilanciamenti altrui, pareggiando con Miller. E le qualità di stoccatore di un Miller in grado di mettere in crisi Rijkerd. Di mettere in crisi Rijkerd.